Un minuto con Padre Pio dal coro della chiesa conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Anna. Qui Padre Pio dimorò per alcuni mesi nel 1916 in questo luogo sicuramente i suoi momenti di preghiera quotidiani il coro, il coro che ci ricorda anche le stimmate di Padre Pio. Oggi però vogliamo raccontarvi quello che accadde proprio in riferimento alle stimmate il 15 maggio del 1919. Tra il 15 e il 16 maggio 1919 venne accompagnato a San Giovanni Rotondo da Padre Agostino da San Marco Illamis, venne accompagnato il dottor Romanelli. Dottor Luigi Romanelli interpellato dall'allora ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia, Padre Benedetto Nardella, che era il direttore spirituale di Padre Pio e chiese appunto di osservare con un'attenzione scientifica le lesioni che erano comparse sul corpo del Cappuccino con fratello Padre Pio da Pietrelcina. Bene, in questi giorni, il 15 e il 16 maggio lui dimorò nel convento di San Giovanni Rotondo e ha redatto una relazione dettagliata dopo aver esaminato Padre Pio e la andò a redigere proprio la sera del 15 maggio 1919 e poi anche la mattina seguente. Una relazione abbastanza lunga, però voglio condividere con tutti voi alcuni passaggi che ci fanno riflettere su quelle che erano le stimmate di Padre Pio da parte della prima persona, dal primo medico che andò a osservare le sue stimmate. Applicando il pollice nella palma della mano e l'indice nel dorso, scriveva Romanelli, coprendo in tal guisa le due zone descritte e facendo pressione che riesce oltremodo dolorosa, si ha la percezione esatta del vuoto esistente tra due dita, soltanto divise da membrane, da tessuto sottile e molle che ha la pressione dall'idea di sabbia, mentre non si percepisce alcuna resistenza né da parte delle ossa né dei tessuti molli esistenti in dette regioni, scriveva Romanelli. Poi scrive sui piedi, i piedi comprimendo contemporaneamente sia nella regione dorsale che palmare appare manifesto che esiste uno spazio vuoto e che il piede è perforato e ricoperto sui fori dalla membrana descritta, poi dal torace, dalla ferita del torace, dal basso verso l'alto è noto una fuoriuscita di sangue arterioso. E poi conclude, da settembre fino ad oggi le lesioni conservano lo stesso aspetto, si mantengono nel medesimo stato e quello che è più meraviglioso, che non producono alcun disturbo e alcuna difficoltà sulle funzioni degli arti, come sono le ferite comuni. E' da escludere, scrive Romanelli, che la etiologia delle lesioni di padre Pio sia di origine naturale, ma la gente produttore debba ricercarsi senza tema di errore nel soprannaturale, che il fatto costituisce per se stesso un fenomeno non spiegabile con la sola scienza umana.